Musica Fermi! Avete detto e avete scritto che era un uomo irresponsabile, patetico, che viveva fuori del mondo. Sì, è la verità, era proprio così. Avete scritto che non rispettava le regole, che faceva di testa sua, che non faceva mai un passo indietro. Ridicolo, vero? E poi era ambizioso, voleva arrivare lontano. Ecco dove è arrivato, scrivetelo. E ora andatevene, tutti, andate via! E ora andatevene! E ora andatevi! Te lo giuro, Corrado, te lo giuro. Mai un passo indietro, fino a quando non li avrò trovati. Tutti. E ora andatevi! E ora andatevi!